Buongiorno, anche da parte mia, io sono Maglio De Benedetto e mi occupo di pre-vendita in Nutanix. Come qualcuno mi ha già incontrato al banchetto di là, quello che vediamo oggi è giusto una veloce introduzione a Nutanix, chi è, che cosa fa, cosa possiamo fare con Nutanix, non entrerò assolutamente o quantomeno troppo nel tecnico, per qualunque domanda mi trovate poi nella sala di fianco. I miei riferimenti sono qui, la mia mail. Giusto due informazioni sull'azienda, Nutanix è una multinazionale americana con sede nella Silicon Valley a San José, esiste da circa 5 anni, abbiamo ricevuto tanti investimenti da un punto di vista economico, altrimenti non avremmo la possibilità di crescere così velocemente in tutto il mondo, quindi abbiamo ricevuto svariati milioni da fondi di investimento, al momento la società è composta da circa 850 dipendenti, 6 centri di supporto sparsi sul globo, parliamo 11 lingue, il supporto è estremamente importante, veloce, risolutivo e molto competente, poi vedremo perché. Abbiamo centinaia di partner e vendiamo più o meno in tutto il mondo. Qual è l'idea di Nutanix? Perché esiste? Che cosa si è inventata Nutanix? Esistono, sono sempre esistite, due diverse tipologie di informatica, quella che si può acquistare, tra virgolette, quindi comprando server, storage, switch, e quella che invece viene fatta in casa, più o meno, passatemi il termine, da cloud provider, web player, come Microsoft, Facebook, Google o Amazon. Quello che ha fatto Nutanix è dare la possibilità a chiunque, quindi anche a qualunque cliente, di creare un data center basato sulla tecnologia web scale, in piccolo ovviamente. Com'è stato possibile? Per esempio se prendessimo Google o Amazon, loro hanno creato un data center basato su blocchi, quindi server, quindi dell'hardware che non costa tantissimo, ma con dietro una tecnologia molto molto elevata, quindi tutti i server, questi building block partecipano alla creazione del data center. Non è ovviamente possibile da tutti i clienti realizzare un'infrastruttura del genere, perché richiederebbe delle persone che stanno dietro alla creazione, alla gestione, alla manutenzione. Quello che ha fatto Nutanix è portare lo stesso concetto appoggiandosi a qualcosa che esiste quasi da tutti i clienti, un hypervisor, la virtualizzazione, e quindi dove esiste, per esempio VMware SX, riusciamo a creare un'infrastruttura basata su Nutanix. Molto molto velocemente, di cosa si tratta? Questa è un'infrastruttura tradizionale, quindi con dei server, una parte di connessione verso lo storage, e lo storage vero e proprio. Quello che fa Nutanix è mettere insieme tutto. La parte di potenza computazionale, quindi CPU RAM, e la parte di storage, in un unico appliance, in una virtual computing platform. Quindi fisicamente, dopo lo vedremo, dei server fondamentalmente, con a bordo però un'intelligenza, molto molto importante la parte software. Nutanix è software. L'hardware è, se vogliamo, una commodity. Si serve per far girare la nostra intelligenza. Per che cosa? Per l'hypervisor. Per la virtualizzazione. Fisicamente, per esempio, abbiamo, in un tipico deployment, abbiamo più server Nutanix, più nodi, che vanno a partecipare in un unico cluster, a scalabilità infinita, minimo tre nodi, che hanno sia la parte di potenza computazionale, che la parte di disco locale, creando un unico file system, fra tutti i nodi. A bordo di ogni nodo c'è un'intelligenza, tutte le intelligenze parlano fra di loro e creano il Nutanix Distributed File System. Che cos'è un'infrastruttura web scale? È un approccio completamente diverso al data center, basato su appliance iperconvergenti, quindi un appliance che ha insieme la parte di potenza computazionale e di spazio, tutto fatto in software, non abbiamo hardware dedicato, abbiamo dell'hardware, ma semplicemente per una questione di supporto. Se i nostri ingegneri hanno bisogno di sistemare un problema, non possono prima immaginare di capire su che hardware stiamo lavorando. È per quello che abbiamo dei modelli ben precisi, che sono però fondamentalmente dell'X86, semplicemente. Intel, connessioni Ethernet fra i nodi, nulla in comune fra i nodi. Tutto in software, tutto distribuito fra tutti i nodi, fault isolation in caso di problemi, se un nodo avesse un problema, non va minimamente a impattare sugli altri nodi del cluster, perché non c'è comunque nulla di condiviso con gli altri nodi. Il tutto con un'integrazione API molto forte con l'hypervisor. Io riesco a parlare con l'hypervisor, riesco a gestire le macchine virtuali, l'hypervisor, gli analytics, controllare che cosa sta accadendo in termini di IOPS, CPU, latenza, scritture, letture, per tutti i tipi di workload. Quindi, Big Data, Splunk, Hadoop, Business Application, Virtual Desktop, nasce inizialmente come piattaforma per il Virtual Desktop, qualche anno fa, e oggi è possibile mettere qualunque tipo di workload. Disaster Recovery, dopo vediamo un paio di slide sulle possibilità in termini di replica, asincrona e sincrona. Branch Office, chiaramente macchine più piccole per gestire workload inferiori. Con l'idea dello scale out, ogni volta che io aggiungo un blocco Nutanix, un mattoncino, vado a crescere su tre fronti. La parte di spazio fisico, quindi aggiungerò nuovo spazio disponibile immediatamente. La disponibilità di IO tra le macchine virtuali e lo storage sarà sempre dedicata, non andrò mai a avere un collo di bottiglia. Le macchine virtuali dialogano con i propri dati attraverso il Bust e server, non dovranno andare da nessun'altra parte. Se io aggiungo dei nodi, le nuove macchine virtuali che si appoggiano sui nuovi nodi, parlano direttamente con i dischi sottostanti, senza dover andare a intasare qualcosa di esistente, o andare a far passare l'IO in qualcosa di già esistente. E la parte di potenza computazionale, ogni volta che aggiungo un nodo, aggiungerò RAM, e CPU, senza dover aggiungere tutte le manovre per riuscire a ottenere spazio. Se avete visto di là, c'è un login con scritto NoSan, semplicemente perché l'architettura creata da Nutanix prevede la creazione di un file system che viene montato su tutti gli hypervisor, in NFS, quindi tutti gli hypervisor vedranno lo spazio Nutanix. per aggiungere un nuovo spazio io devo solo cliccare su Create Container, che cos'è un container per noi? Il datastore di un SX. Create Container immediatamente viene creato e mappato a tutti gli hypervisor appartenenti al cluster. Semplicità, l'altro punto fondamentale, dall'unica interfaccia di gestione che si chiama Prisma, io riesco a vedere tantissime cose. Che tipo di ambiente virtuale sto utilizzando? Quindi in questo caso nell'esempio SXE con 5 nodi, 4 in 5.0 e 1 in 5.1, lo spazio fisico, gli IOPS sul cluster, sul singolo hypervisor e sulle macchine virtuali. Posso chiedere dal tasto di ricerca a quella macchina virtuale guest che cosa sta facendo? In termini di IOPS, di latenza, di utilizzo di CPU, di RAM, la parte di alerting e la parte di analytics comunque è veramente potente. Posso andare a chiedere al mio sistema Nutanix cosa è accaduto nell'ultimo mese a livello granulare sulla parte di IOPS, dischi e ci sono poi tutta una serie di altre possibilità e chiaramente anche quante macchine virtuali, ripeto, l'interazione con l'hypervisor è molto molto forte. Altra cosa importante, l'upgrade. L'upgrade viene fatto modello smartphone che fa sorridere, ma in realtà è proprio così. Se ammesso che la macchina sia connessa a internet, addirittura è possibile abilitare il download automatico del nuovo sistema operativo oppure gli si dà in pasto il nuovo sistema operativo, dopodiché si preoccuperà l'interfaccia e il software di aggiornare tutti i nodi all'interno del cluster senza mai dare di servizio, senza dover spostare nessuna macchina virtuale, nemmeno una vMotion, non devo spostare, rimangono accese perché le ho spostate su un altro nodo. Assolutamente no, io aggiornerò i miei hypervisor senza nessun tipo di servizio e senza muovere le macchine virtuali. Questo vale per il sistema operativo Nutanix ma anche per l'hypervisor, per esempio. C'è un video che gira di là da stamattina il loop che fa vedere come si aggiorna l'hypervisor, nel caso specifico dà una 5.5, sono 4 nodi di SX 5.0 che vanno aggiornati in 5.5 e se ne preoccupa direttamente l'interfaccia Nutanix con una maniacalità allucinante sui controlli. Fare un upgrade del genere richiede dei controlli veramente incredibili e non posso permettermi minimamente di sbagliare, perché devo gestire spostamenti, maintenance mode, tutto quanto nella maniera corretta. Quindi aggiornamento del sistema operativo Nutanix, dell'hypervisor, dei firmware, di tutto ciò che riguarda Nutanix e l'hypervisor sovrastante. Come cresce un'infrastruttura Nutanix? Semplicemente aggiungendo nuovi nodi che si autoannunciano in IPv6 e quindi quando io metto un nuovo nodo lui si annuncia e io posso espandere il mio cluster a caldo. Quindi andrò a avere un file system più grande ridistribuito sul nuovo nodo e nuova potenza computazionale. Se fra tre anni decido di togliere un nodo perché è uscito, a breve esce V3, Ashwell, usciranno nuovi nodi, nuovi server con quella tecnologia Intel, andrò a mettere un nuovo nodo e toglierò magari quello vecchio. Di nuovo a caldo le mie macchine virtuali, in quel caso le sposterò, farò una V-motion, toglierò il vecchio nodo, aggiungerò quello nuovo. La mia infrastruttura Nutanix sarà un'entità che respira, che si gonfia, si sgonfia, quindi posso aggiungere e togliere nodi, ma spostando sempre le mie macchine virtuali che non verranno mai spente. Fisicamente, anche per dare un'immagine, una faccia, questo per esempio è uno dei modelli, quindi due unità REC con all'interno quattro blade, sono quattro server, semplicemente. Cosa importante è che comunque, ripetiamo, Nutanix è software, questi sono quattro server, semplicemente, con una certa potenza, immaginiamo la cosa interessante che intanto così riesco a mettere due tera di RAM, 16 tera di disco, un piccolo data center. con la tecnica della crescita dicevamo scale out, quindi minimo tre nodi, perché tre nodi? Perché ho minimo tre copie del metadato e due copie del dato e andrò a crescere aggiungendo un nodo per volta, aumentando sia gli IOPS che lo spazio, crescendo in maniera lineare e predictable, soprattutto. Quindi so esattamente che cosa gira su un nodo con un certo tipo di workload, quando aggiungerò un nuovo nodo so perfettamente che cosa riuscirò a farci girare sopra e anche quanto mi costerà, altra cosa fondamentale. Bisogna sempre fare i conti non solo con la parte tecnica, anche soprattutto a volte con la parte economica. Quindi, se devo pensare che cosa investire per l'anno successivo, so quanto mi costa un nodo e soprattutto che cosa riesco a farci girare sopra. Quindi, linea scale out 4 nodi 30.000 ipotesi IOPS, 60.000 8 nodi 90.000 e così via. In maniera assolutamente predictable. Due slide molto veloci sulla parte un po' più tecnica, ripeto, poi sono di là a disposizione. fisicamente, questo è hypervisor, immaginiamo un SX, 5.5, questo è Nutanix, una macchina virtuale che è il cervello, questo è Nutanix, il software. Le macchine virtuali, le guest, chiederanno all'hypervisor per depositare i dati, l'hypervisor parlerà con la macchina Nutanix che scriverà fisicamente sui dischi. Tutti i nodi hanno una parte di dischi SSD e una parte SATA e c'è un tearing automatico, uno spostamento costante, è uno spostamento costante fra i due tier di dischi a seconda del tipo di workload. Ho bisogno di fare performance e ho richieste sugli stessi blocchi, si preoccuperà Nutanix di fingerprintare e fare deduplica in linea sugli SSD per essere molto veloce, cosa che per esempio accelera notevolmente l'operazione di lettura, oppure andrò a bypassare l'SSD e scriverò direttamente sul SATA perché il workload in quel momento richiede questo tipo di operazione. Questo è un nodo, questi sono più nodi, quindi i nodi ripeto non hanno nulla di condiviso fra di loro, parlano solo attraverso Ethernet, 10 gigabit, quindi connessione 10 gigabit, creazione del file system sulla rete e crescita del cluster. Sì? Il rapporto tra dischi tradizionali e solid state è così come sembra lì 6633 o è un caso? No, dipende, adesso vediamo i modelli. Ci sono dei modelli, esatto, corretto comunque la domanda, in genere quasi tutti i nodi hanno due dischi SSD, adesso lo vediamo, e una parte degli dischi SATA. veloce excursus sulla replica, possiamo fare repliche di tipo asincrono o sincrono, le repliche asincrone prevedono da un cluster a un altro, fra due cluster attivo attivo uno il disaster recovery dell'altro, da uno a tanti, da tanti a uno, quello che mi pare. RPO 15 minuti in caso di replica asincrona. Replica sincrona invece, due cluster, ok, prerequisito 400 km massimo di distanza, 5 millisecondi di response time, quello che scrivo su un sito è scritto anche sull'altro in maniera sincrona. All'acknowledge da una parte io avrò già il dato depositato dall'altra. Immaginiamo, giusto per vederlo velocemente e premesso questo è infatti in software, IP, le due macchine si vedono in IP, nient'altro, non c'è hardware, non ci sono fibre, non c'è nulla, solo visibilità IP con 5 millisecondi e 400 km di distanza massima. Esempio pratico, qui ho 4 nodi per esempio di un cluster, di qua altri 4 o 3, minimo 3, data store blu da questa parte, data store verde da questa parte, le macchine blu a regime stanno a sinistra e le macchine verdi a destra, ok? A ogni scrittura di quelle blu io ho comunque una replica sincrona, quindi acknowledge di qui quando il dato è anche da questa parte e così dall'altra parte. Un unico cluster VMware strecciato fra i due site, questo mi permette per esempio di fare una vmotion e spegnere completamente un sito. Voglio spegnere questo sito per fare manutenzione, vmotion da questa parte, giro i metadati rendendo attivo il container quindi data store blu a destra e posso spegnere il primo sito completamente. Lo riaccendo, resync e via. Ed è veramente eccezionale. Oppure mettendo insieme le due cose due siti in replica sincrona più una copia in asincrono su un ulteriore sito. Questo è quello che mi permette di fare e quindi per tradurlo in tempi RPO RTO se voglio business continuity quindi RPO 0 metro availability sarà la feature repliche quindi 15 minuti di RPO in caso di repliche asincrone se quello è l'RPO desiderato ora se voglio andare sul cloud posso creare una copia delle mie macchine virtuali su Amazon e a breve anche su Microsoft Azure. Foto di famiglia la risposta alla domanda di prima e poi ho finito esistono più modelli quindi form factor 2 unità rec 4 nodi 1000 3000 un disco ssd 4 dischi sata o 5 2 dischi ssd e 4 dischi sata la differenza qui sono Ivy Bridge Sandy Bridge e RAM fino a 512 giga fino a 128 oppure form factor 2 unità rec 2 nodi con 2 ssd però ho sempre 4 dischi di capacità superiore quindi più o meno il ratio è sempre lo stesso nodo per il VDI grafico nodo per Monster Machine ho bisogno di un Oracle molto performante 3000 caselle exchange e l'ultimo nodo che ancora non ho messo nella slide tutto flash hanno bisogno di tantissimi IOPS non ho messo di un certo modo l'ultimo nodo il nostro è un certo i